Salve gente, bentornati nella nostra carriera allenatore con il nostro su Tirol Allora, notifica Odogvu, ancora offerte per lui Rifiuta Rifiuta, rifiuta, rifiuta Tahit trattiamo, trattiamo col Basilea Allora Per Tahit, se ci danno 770 milioni per me si può fare 780 dai, no 730 Eh caro Basilea devi venirmi un po' incontro, dai 7 e 7 dai 7 e 7 Ancora 7 e 30, facciamo 7 e mezzo dai No, niente ragazzi, niente Salta Tahit al Basilea, ce lo teniamo Fa niente Partita contro il Lausburg Attenzione qui all'Ausburg Kornienko Pedersen Ancora Kornienko Demirovic, attenzione Subito il gol dell'Ausburg E vabbè ma loro sono più forti di noi ragazzi Attenzione Prima amichevole che sta andando un po' malino Attenzione qui Ancora l'Ausburg Il tiro fuori Per fortuna Dai ragazzi, dai Andiamo noi Capone 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 Il tiro E la paratona Ma è Kornier Va Carretta Carretta in mezzo Sulla testa di compagno Andrea Compagno Dalla Romania Il compagnone Col suo 80 di fisico Attenzione qui Palla al centro E qua c'ha graziato Ancora l'Ausburg Qua c'è una prateria per loro Demirovic Fa 2 a 1 2 a 1 Ausburg Beh azione perfetta Poco da dire Buconostro in difesa Compagno Si gira Siega 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 Palo di Siega Clamoroso Che sfiga Finisce qua Perdiamo 3 a 1 Contro l'Ausburg Brutta Batosta Allora Prossima partita Gioca Mazzocchi Per il resto Facciamo giocare anche Titolare Aivu E facciamo giocare Curto Terzini Non ne abbiamo Va preso il terzino Destro A sinistra Gioca Davi E andiamo bene così Secondo me Andiamo in campo Eccoci qua Siamo dallo stadio del Valencia Pazzesco Amichevole con lo Spezia Attenzione allo Spezia Passa qui Inzolà Inzolà Il gol di Inzolà Stiamo subito sotto Contro lo Spezia Clamoroso Clamoroso Mazzocchi Crociata Dalla lì Siega Attenzione c'è un buco per Siega Che lo prova Niente Ancora noi Con la nostra magliettina viola Oggi Attenzione c'è un buco per Siega Siega c'è un altro buco per Mazzocchi 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 E poi passa nei cartelloni pubblicitari Mazzocchi Ok fai quello che vuoi Fai quello che vuoi Mazzocchi Comunque si sente che è più forte Attenzione rover Rover 2 a 1 2 a 1 su Tirola Anche rover passa in mezzo ai cartelloni pubblicitari Sì oggi siamo Attenzione qui Ottima chiusura di iV Siamo un po' fiacchi in questo secondo tempo E finisce qua Finisce qua Battiamo lo Spezia Altra amichevole Altra amichevole Contro il Bokum Attenzione al Bokum No Subito gol del Bokum 1 a 0 Al ventesimo Ancora l'oro Il tiro E la parata di Poluzzi Assurdo Poluzzi ha imparato a parare Ross Colpo di testa E era troppo bello per essere vero Gol del Bokum 2 a 0 Pazzesco Ancora palla per compagno Compagno per rover Il tiro di rover Il 2 a 1 Non male rover Devo dire Mi sta piacendo A potenziale Ancora il Bokum Ancora il Bokum Ancora d'oro Ma la partita è quasi finita Bokum in attacco Attenzione qua Non chiude Aivu Poi rischiamo un po' Ancora Aivu Arbitro fischia per favore Tanto abbiamo perso Finisce qua Perdiamo col Bokum Peccato Però Sincero La prestazione per ora è buona Siamo praticamente alla fine Arrivano un sacco di resoconti qua E anche l'aggiornamento per l'osservatore Vediamo un po' qua In primavera Questo lo prendiamo Bianco Lo prendiamo E battaglia Lo prendiamo assolutamente Lo dobbiamo prendere un po' tutti Perché dobbiamo fare una bella primavera Reso conto per Elia Però peccato che abbiamo pochi soldi ora E poi Per quanto riguarda l'attacco Secondo me siamo messi abbastanza bene Tanto qua arrivano ancora i resoconti Per Gaetano Gaetano costa tantissimo Mi sarebbe piaciuto prenderlo Ma magari lo faremo più avanti Per il resto qua Niente di interessante Cufralidis Sì ce lo mettiamo in hub Ma niente di più Vabbè Per me Siamo Alla fine dell'episodio Io andrei a vedere un po' i nomi Che abbiamo come terzini Qua nell'hub Ma nulla di più Perché abbiamo veramente pochi nomi Come terzini Anche se qualcuno di interessante Cioè ma come vedete Gli overall sono tutti molto bassi Tutti molto modesti Tranne Elia E Gaetano Che non possiamo prendere Perché non abbiamo soldi Però Però Decaul Non so perché nella mia lista Decaul Dato che era nostro E l'abbiamo venduto Dickman non sarebbe male Ma non abbiamo soldi Piccini Piccini mi piacerebbe Puccino Puccino ha un buon prezzo Però il problema è troppo vecchio Sernico Eh Sernicolas Sernicolas sarebbe il sogno Ragazzi Mamma mia Beruato vale 8 milioni Schnegg Koffler Trummer Auer Sono tutti austriaci Molto molto forti Ma Cioè molto molto forti per noi Ma che preferisco aspettare Dei secondi su di loro Ciao a tutti raga Grazie